Ciao a tutti, questa proposta è per abolire il vitalizio ai politici condannati per mafia. In pratica la legge al momento ha abolito il vitalizio per coloro che hanno commesso reati amministrativi, con l'assurdità che se un politico come ad esempio Cuffaro o Dell'Utri ha commesso altri reati ben più gravi come per esempio reati di mafia, percepisce il vitalizio. Quindi con questa proposta non facciamo altro che dire se hai commesso reati di mafia, sia se vengono erogati dalle regioni, sia se vengono erogati dal Senato, dalla Camera o da qualunque organo della Repubblica, questi vitalizi vengono aboliti. Una proposta semplice e chiara che il governo e tutti i partiti dovrebbero sicuramente portare avanti, ma vedremo se questo accadrà. Commentate e cerchiamo di fare rete per portare avanti questa battaglia. Grazie 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 Grazie